eh vabbè vado ormai e beh le ruote oddio mi ha fatto scoppiare il robot suppongo aggressivo contro i robot tutti ai vostri posti e ora come la metti eh agressivo contro i robot ma contro il pullman non fate più il gradarsi questi robot veramente io non sono mai stato in strada ah lo sapevo io che incontravo qualcosa perché non fate una gita con me lo sapevo io non lo vediamo più informate le unità di terra eh vabbè fatemi passare ah aprite le porte c'è momenti come questo vado a fare vabbè no bellissima ah scendi che mi riesco a colpir da aiuto nooo non mi hanno fatto fare lo sci c'è da lì ma se sta tutto il vetro è coso spero vi sia piaciuto sta puntata è stata stranissima se vi è piaciuto mettete un bel mi piace commentate e iscrivetevi se l'avete ancora fatto allora ragazzi mi vuoi